A voi piace il miele? A me sinceramente non molto, a meno che non sia unito a un formaggio molto meglio se stagionato. Come tutti sanno il miele arriva dalle api e una delle necessità di ogni apicoltore è quella di far stare al meglio le proprie arnie per ottenere il risultato migliore, il prodotto migliore. Però purtroppo alcune api incappano in una serie di eventi che le portano a pungere e che se ne dica se un'ape punge una superficie elastica come può essere la pelle di un mammifero, la nostra pelle, finisce con il lasciare il proprio pungiglione incastrato dentro quella superficie con una seguente auto-eviscerazione e morte. Questo non capita se vanno a pungere una superficie più rigida come può essere la chittina di altri artropodi, altri insetti. Per le vespe invece questo non conta niente dato che loro possono pungere qualsiasi superficie più e più volte senza alcun problema.